Mi hanno appena messo dentro per una scelta, qualcuno può venirmi a tirare fuori? Sto arrivando. Qualcuno può venirmi a tirare fuori? Salve, signor Kujo. Potrebbe venire a pagare la cauzione? Mi dispiace, Giorno. La sua voce... non può essere. Esattamente. Io... sono nella cella accanto. È impossibile! Porca troia! Aspetta. Ma lei da quanto tempo sta qui dentro? Sono arrivato dopo di Jolene, ma prima di te. Ehi, perché allora non mi hai tirato fuori quando sei arrivato? Beh... non dovrebbero i genitori legare con i propri figli facendo attività insieme? Crepa, vecchiaccio! Siamo fottuti. Calmatiti. Ho detto a Josuke di portarci tutti quanti fuori. Andrà tutto bene. Eh, salve. Sono venuto a tirare fuori la mia famiglia, pagando la cauzione. Eh? Un moccioso come te. Con dei capelli del genere. Eh? Eh? Cos'è stato? Probabilmente qualcuno che sta venendo arrestato. Chi se ne frega. Sceotaro-san. Eh... Va... va tutto bene, Josuke. Grazie.